Il gelato è trasversale, in Europa si è espanso bene, si è ben radicato, ma anche oltre i confini? Certo, sicuramente è partito dall'Italia, ma sicuramente in alcuni paesi tipo Germania, Austria, Olanda, Belgio, si è in qualche maniera radicato e il nostro prodotto ha avuto sicuramente un grande successo. C'è parecchia strada ancora da fare, però noi ce la stiamo mettendo a tutta. Lei ha collaborato per aiutare un'imprenditrice all'estero a impiantare che cosa, Monica Tramontani? Una gelateria che si chiama Il Gelato, ovviamente. Ah, semplicissimo. Dove si trova? Nel sultanato de Romain, nella capitale, che si chiama Mascat. Io andavo lì per lavoro, lavorando nel settore del petrolio. Che non c'entrava niente. Non c'entrava niente, però Il Gelato è sempre stata una passione. E ho visto che non c'era neanche una gelateria in tutto il paese. Non consumavano, non conoscevano? Consumavano ice cream. Che differenza c'è tra gelato e ice cream? Con l'industriale ice cream. Sì, esatto. L'ice cream è un prodotto industriale, invece il gelato artigianale è tutto un altro prodotto. Ok, quindi gelato e ice cream. Con le grosse catene americane, quindi la Baskin Robbins, l'Hug and Dust, soprattutto la McDonald's. E quindi ho detto, ma visto che fa caldo tutto l'anno, c'è il sole tutto l'anno, ci sono 355 giorni di sole l'anno, ho pensato che poteva essere una buona idea, mettere una gelateria artigianale. Allora l'abbiamo fatta sul mare, perché secondo me il concetto di passeggiatina sulla spiaggia col gelato andava bene, essendo sul mare. Però purtroppo gli arabi... Non passeggiano. Non passeggiano, primo. E secondo non mangiano camminando. Non bevono e non mangiano camminando, come del resto gli orientali, anche i giapponesi, non mangiano camminando. Quindi avevamo delle sedute, avevamo dei tavolini, eccetera, eccetera, e andava abbastanza bene. Quindi cercando di modulare un po' il tipo di offerta? Abbiamo dovuto cercare di modulare anche il prodotto, perché loro hanno dei gusti diversi dai nostri, quindi vogliono molto più zucchero. Ah, quindi nella consulenza ha dovuto modificare i suoi parametri? Sì, sicuramente perché il tipo di prodotto che noi abbiamo in Italia sicuramente non può andare bene per quanto riguarda gli arabi, proprio perché nei loro usi, abitudini e costumi sono completamente diversi da noi, hanno una tradizione legata molto al dolce. Al dolce, alla palma, al grasso, e di conseguenza bisogna adattare a quello che è il popolo a cui viene somministrato il prodotto. Ma anche gli americani hanno questa esigenza. Quindi loro non gradivano il gelato che... No, beh, l'abbiamo modificato strada facendo, nel senso che essendo a contatto con i clienti ci dicevano. Ma poi anche i gusti sono diversi, perché per esempio il tiramisu non va, la stracciatella non va. Oh, che è il gusto europeo di quest'anno, perché dopo ne parliamo, eh. La stracciatella non va. La stracciatella non va, neanche quello. La crema non va. Che cosa va? Lì vanno molto quei gusti un po' strani all'americana, quindi i cookies, i biscottini, l'oreo, l'oreo cookies, poi va il cheesecake, il cheesecake alla fragola, il cheesecake al limone. Poi stranamente l'unico sorbetto che va è il limone menta, perché loro hanno la tradizione di bere il succo di limone con la menta. Per esempio la menta non va, la liquirizia non piace. Quindi anche uno studio di accogliere le tradizioni, i gusti, modificarli? Cioè bisogna adattarli. Abbiamo dovuto sì adattarli. Poi facciamo per esempio il gelato al dattero, che qui assolutamente non va. Facciamo il gelato con un loro dolce tradizionale, che è fatto con il miele, con i datteri, con la melassa. Dietetico da molto. Pistacchio va molto, pistacchio è un gusto trasversale. Per esempio la nocciola non piace. Cose molto strane. Ma ecco, che tipo di struttura fisica, tecnica, ha dovuto utilizzare per creare e per esportare quindi il gelato italiano all'estero? Diciamo che se un gelatiere è preparato professionalmente, sa effettivamente che il tipo di prodotto che realizza in Italia non potrà sicuramente andare in altri paesi a livello, diciamo così, sia europeo ma anche extraeuropeo. Quindi lei ha fatto un esperimento, però sotto sotto sapeva che doveva correggere il tiro con... Diciamo che non conoscevo le loro usi, abitudini e costumi, non pensavo potesse arrivare a certi livelli di zuccheri e di grassi su questo senza roba. Anche perché ho pensato, c'erano 45-46 gradi, fa molto caldo, per cui bisogna in teoria, ipoteticamente, dare un prodotto molto delicato, molto freddo e ovviamente che non sia eccessivamente zuccherato perché poi fa sette. Invece è tutto l'opposto, le loro usi, abitudini e costumi. Effettivamente l'uso, abitudini e costumi di un popolo è decisamente superiore rispetto anche agli aspetti climatici del tempo sotto questo aspetto. Dopo vedremo come siamo cambiati anche noi qui in Italia, perché mi sa che anche là c'è stato un cambiamento. Un attimo che leggiamo un messaggio che è arrivato. All'estero, specialmente in Europa, si trovano moltissime gelaterie italiane, ma chi ci crede più sembra che tutti i gelati italiani siano migrati all'estero. È vero che sono migrati all'estero, a parte dottoressa Tramontana. Allora qua c'è stato scritto gelataio, gelatiere parliamo, attenzione nel senso che quando parliamo di un professionista parliamo di un gelatiere. Gelataio è colui che vende il prodotto, mentre invece gelatiere è colui che fa il gelato. Sicuramente tantissimi gelatieri italiani sono migrati all'estero e ancora stanno migrando proprio perché le condizioni economiche in Italia stanno cambiando e alcuni mercati esteri sono molto più appetibili rispetto all'Italia, su questo non c'è un prevedubbio. Quindi stiamo esportando un nostro know-how anche. C'è un gelatiere, c'è anche un know-how. C'è sicuramente grandissima richiesta di gelatieri all'estero, di fatti nella scuola che io faccio formazione il 92% degli alluni vanno tutti all'estero proprio perché le condizioni economiche siano molto ma molto più favorevoli rispetto a quelle italiane. Ecco qua dice buongiorno Elena, difendiamo i nostri prodotti made in Italy che sono sempre copiati da tutti. Il gelato italiano è incredibilmente buono. C'è un made in Italy del gelato? Non c'è proprio un disciplinare purtroppo, di fatti è quello che vorremmo avere come riconoscimento da parte della comunità europea proprio perché sta verificandosi per esempio un fenomeno che le vecchie generazioni dei gelatieri che sono andati in Germania, italiani, hanno ceduto le attività e adesso stanno subentrando i turchi e stanno snaturando anche quel prodotto là purtroppo. No, i turchi. I turchi hanno una forte predisposizione per quanto riguarda l'acquisto delle gelaterie artigianali in Germania e tantissime famiglie proprio storiche che erano in Germania hanno ceduto proprio per ragioni anagrafiche ovviamente perché ormai sono arrivati alla fine della loro attività, hanno ceduto proprio a compagnie turche le loro gelaterie artigianali. Cosa si rischia? Si rischia di snaturare un prodotto e ovviamente di non avere più un prodotto che è tipico caratteristico italiano proprio perché loro lo adattano ovviamente anche alle loro abitudini. Quindi un po' quello che raccontava la dottoressa, che c'è stato un adattamento necessitato dal luogo, qui potrebbe essere necessitato da chi prende in mano l'attività, quindi ancora di più diventa importante. Questa è stata, vediamo l'immagine del premiato per il gelato, il tiramisù che è il gelato di quest'anno, no? Esatto, sì, sì, sì. Diciamo che nell'ambito dell'Art Class, che è l'associazione che raggruppa tutte le gelaterie d'Europa, quest'anno aspettava l'Italia a scegliere il gusto e quest'anno attraverso un concorso è stato scelto il tiramisù e ha vinto Thomas Infanti, un ragazzo proprio padovano che è molto bravo, delle nuove generazioni, che sicuramente farà parlare di sé e ha vinto questa selezione a livello italiano con il tiramisù e avete visto appena adesso che è comparsa la sua ricetta. Infatti nella ricetta, torniamo indietro, ho visto il latte scremato in polvere, si può? Sì, si può tranquillamente, il latte scremato viene utilizzato solamente come residuo secco per dare più struttura al gelato, ma ovviamente l'ingrediente principale, se avete visto, è il latte fresco. È il latte fresco. Il latte fresco, tuorlo d'uovo, mascarpone, prodotti di primissima qualità. E da voi come fa? In Oman, eccolo qui, adesso possiamo rivedere un po' l'immagine e la ricetta che è stata utilizzata. Da voi invece in Oman come è possibile? Con il latte, con questi prodotti che sono molto delicati? C'è una produzione di latte in Arabia Saudita, quindi tutto il latte migliore che si trova in Oman arriva dall'Arabia Saudita. C'è una produzione locale abbastanza limitata, però diciamo il latte saudita è quello più buono e costa, costa perché costa 2 euro al litro. Quindi il gelato costa di più lì? Il gelato costa leggermente di più. Sia produrlo che consumarlo? Produrlo, abbiamo costi fissi inferiori perché abbiamo... La manodopera costa poco. La manodopera costa poco, l'elettricità costa poco rispetto all'Italia, diciamo. Il latte costa di più, c'è qualche tipo di frutta che costa di più, qualche tipo di frutta che costa di meno, lo zucchero costa meno. Poi ci sono per esempio gli ingredienti base che sono i neutri, gli stabilizzanti, li prendiamo dall'Italia. Cosa sono i neutri? I neutri sono praticamente delle polveri naturali di farina di carrube o farina di guar che servono per evitare che il gelato diventi un blocco di cemento. Perché essendo meno 15 diventa un blocco, quindi sono degli agenti che lo fanno restare cremoso. Ha avuto successo questo... Aspetta, messaggio, messaggio, messaggio. Faccio il gelato in casa e vi dico che mi riesce meglio con il latte parzialmente scremato che con il latte intero. Pensavo il contrario, abbiamo gelatieri, domestici, cosa dice? Diciamo che dal punto di vista tecnico sicuramente l'apporto calorico sarà minore, però dal punto di vista qualitativo è sicuramente meglio realizzare un fior di latte con il latte fresco intero, non parzialmente scremato. Proprio perché il parzialmente scremato consiglierei sicuramente il fresco, non quello UHT, perché il latte UHT praticamente è un latte morto. Di conseguenza tutte le proprietà nutrizionali purtroppo sono andate distrutte, per cui sicuramente è meglio un prodotto fresco e intero. Quindi alta qualità possibilmente? Alta qualità sicuramente e di produzione locale, ovviamente. Voi utilizzate questi? Sì, utilizziamo sicuramente di produzione locale proprio perché la qualità sicuramente è molto ma molto più alta che non un parzialmente scremato che ha avuto dei trattamenti che sono completamente diversi rispetto a un prodotto. E lo rendono povero, quindi, in conseguenza. Allora, ritornando qui, c'è un'intolleranza a certi alimenti più spiccata? Dopo parliamo di intolleranze del latte, eccetera, non so, il latte in questi paesi? Diciamo che stranamente no, non abbiamo riscontrato queste problematiche. Ha avuto successo quindi, è piaciuto? Ha avuto successo, soprattutto tra le donne, l'80% dei nostri clienti sono donne. Donne e stranieri, quindi americani, inglesi, tedeschi che hanno una cultura europea e i bambini ovviamente. I nostri clienti sono i bambini, le donne, anche arabe e gli stranieri. Qual è stato l'aspetto più difficoltoso e quindi di criticità? La criticità, beh, all'inizio l'approvvigionamento delle materie prime dall'Italia, anche se lì le dogane sono piuttosto tolleranti. Adattare le ricette ai loro gusti, perché noi partivamo da ricette italiane. Capire poi che loro vogliono molti grassi, perché noi all'inizio producevamo senza grassi, quindi poi abbiamo iniziato a capire che volevano i grassi. E poi gestire un po' il personale, perché lì si lavora con i filippini, con gli indiani, con i bengalesi, quindi diciamo questa è un po' una problematica. La parte burocratica è praticamente assente. E quindi tutto quello che è il grande problema vostro. E' tutto facile, la burocrazia. Adesso sta un po' peggiorando, però quando abbiamo iniziato noi il 2008, burocrazia zero. Donne imprenditrice del gelato, cosa vuol dire in quei paesi? È possibile? Sì, ci sono moltissime donne imprenditrici e diciamo che è un paese che apre moltissimo le donne. Quindi non è stato un problema da quel punto di vista? Assolutamente no. Ma Filippo Bano, il Presidente, non si è buttato ad aprire anche lui una gelateria in quei paesi lì, magari in concorrenza con la discepola del gelato? L'idea spesso c'è stata. Il problema è che ho le radici qua e di conseguenza sono legato al mio territorio e praticamente ho fatto la scelta di rimanere nell'ambito del territorio. Perché bisogna seguirle queste cose da vicino. Sicuramente bisogna seguirle, ci vuole amore, passione e soprattutto tante ore di dedicare alla propria attività, proprio perché il cliente ha bisogno di avere un punto di riferimento nella gelateria e effettivamente la figura del titolare è importantissima, specialmente poi in Italia, che noi abbiamo un problema dal punto di vista fiscale che effettivamente loro non hanno, che è abbastanza pesante e che penalizza non poco le nostre attività, insomma in questo senso. Chiarissimo. Adesso parliamo anche di gelato come alimento e quindi le caratteristiche nutrizionali che può avere. E poi come è cambiato anche il nostro gusto, se è cambiato, perché abbiamo visto all'estero è già diverso, però anche qui da noi credo che siano modificati nel tempo. Lei poi da quanti anni è gelatiere? Da quasi 40 anni. Dietro l'angolo. E anche docente, tra l'altro, insegna ai più giovani. Pubblicità, poi torniamo insieme.